Lo scorso marzo avevano dipinto le nuove strisce gialle per lo spostamento dei taxi sull'altro lato di via Roma, lontano dalla galleria. Ora queste linee hanno perso colore e continuano ad essere al centro delle polemiche, perché spesso gli stali riservati a chi fa un servizio alla cittadinanza sono occupati da altre macchine. Io personalmente ho fatto presente la cosa anche al comando della polizia locale, ho avuto anche un incontro col comandante sollevando il problema, anche perché nel momento in cui hanno deciso di spostarci da una parte all'altra di piazza Roma è stato detto da parte del comune che hanno fatto uno studio per verificare se l'area era idonea, adeguata, ma a quanto sembra questo studio è stato fatto con un po' troppa leggerezza, perché non ci viene garantito il nostro posto libero quando arriviamo al lavoro. La cosa secondo me va a influire anche su un servizio verso il cittadino. Guardando però il cartello che segnala l'area taxi può sorgere più di un dubbio. In effetti il cartello che ritrae la scritta taxi è quello previsto dal codice della strada che delimita un'area taxi, però in effetti è un po' equivoco perché all'interno di questo cartello ci sono i numeri da chiamare se si ha bisogno del taxi, quindi sembra più un cartello informativo più che un cartello di divieto. E' stata fatta presente anche questa cosa che in effetti se vedete lì avanti c'è un paletto libero proprio a metà dell'area taxi e abbiamo fatto presente che magari è opportuno mettere un cartello con la scritta solo taxi, che delimita proprio un'area taxi. Una situazione comunque che mette in difficoltà chi deve svolgere il proprio lavoro e anche chi deve usufruire di questo servizio.